Uccide i nostri fratelli e sorelle e metti a repentaglio l'intero progetto. Voglio che quel codardo sappia che ha la mia attenzione. I miei cacciatori stanno venendo a prenderti. Non mi sfuggirai. Cacciatori non suona bene. Se Jacobo vuole prenderti, manderà i suoi uomini migliori. Guardati le spalle, B.J. Non pota aiuto, sarebbe comodo! Non facciamo gli schizzinosi. Ci sono gli Edeniti. Cacciai sono gli Iron Man. Non significa il Chore! Non saresti dovuto venire. Dovevi scappare. Questo mondo è debole. Molle. Abbiamo dimenticato cosa vuol dire essere forti. Prima i nostri eroi erano gli dèi. Adesso abbiamo eroi senza Dio. Deboli. Biacchi. Matici. Lasciamo che i deboli governino i potenti e poi ci meravigliamo se il nostro mondo va a rotoli. Ma la storia conosce il valore del sacrificio. Dello sfoltire il branco per renderlo più forte. Per secoli e secoli la collettività è prevalsa sulla vita dei singoli. Così siamo sopravvissuti. Dimenticandolo. E ora? È tempo di pagare il conto. Adesso. Il collasso è imminente. E questa volta i singoli varranno più della collettività. Quando una nazione che non conosce fame né disperazione precipiterà nel caos. Saremo pronti. Saremo pronti. Finalmente. Svoltiremo il branco. Faremo ciò che deve essere fatto. Non sei un eroe. Eccellente. Bene. Svoltisci il bestiame. Svoltiamo il bestiame. Ben fatta. Conosci il tuo scopo. Se sacrifica il bello. Ecco. Dentro. Sono rimasti a marcire per giorni. Walker, apri le finestre. Sì, signore. E qualcuno spenga quella musica. Merda. E Sally. Quando l'hanno presa? È una perdita di tempo. Sono tutti morti. Controlla lo stesso. Perché mi trovo sempre in mezzo ai cadaveri? Porca troia. Cosa? Oh, cazzo. Questo è vivo. Walker, vai. Il furgone. Sì, signore. Oh, mio Dio. Mi dispiace. Dammi una mano. Forza. Forza. Ilai. Ma è... Che cazzo ci fa il vice qui? Jacob avrà preso di nera anche lui. Andrà tutto bene, vedrai. Ora sei con il white tail. Lo portiamo alla tana dei lupi. Dove se no? Temmi non sarà contenta. Non preoccuparti di Temmi, andrà bene. Prova a bere questo. Ma cosa cazzo ti passa per la testa? Aspetta, io e Witty eravamo d'accordo che... Oh, davvero? Un momento, un momento. Ero solo un osservatore imparziale. È una cosa stupida. Ed è anche pericolosa, dovreste saperlo entrambi. Che avrei dovuto fare? Lasciarlo morire. Temmi. Solo Dino sa per quanto è stato in quella stanza. Ho visto cosa fa le persone. Tu invece no. Non possiamo fidarci. È quello che dicevano di te. Per fortuna non li ho ascoltati. Non si discute, ci serve. Non c'è altro da dire. Ci siamo capiti. Eh già, l'ha presa benissimo. Fuori! Ma io non ho fatto niente. Abbiamo bisogno di te. Sul serio. Riposati ora. Ehi, che si dice? 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 Mandovice, Dutch mi ha parlato bene di te. Vado subito al dunque. So cosa hai fatto a Sud. Il padre ora ci penserà due volte. Ed è solo un bene. Stiamo perdendo uomini qui. Inutile girarci intorno. Di questo passo non so se dureremo un'altra settimana. Dire che è un momento disperato è dire poco. Sto cercando di recuperare un po', quindi ho mandato dei White Tail a sabotare il centro visitatori. Ma Setta lo usa come deposito per quello schifo di Gaudio. Ma i nostri uomini sono caduti in trappola, sono stati presi in ostaggio, quindi non abbiamo tempo da perdere. Ok, ok. Un gruppo di White Tail è stato preso in ostaggio al centro visitatori. Devi andare a recuperarli. Sono Eli, ti vedo. Ho piazzato telecamere su tutta la montagna. Il Fang Center è più avanti e Brulica di Edeniti. Stai attento. Non voglio morire così. Piano, piano. Come dicevo, se ti scoprono uccideranno gli ostaggi, quindi non farti vedere. C'è un tubo di scarico che puoi usare per prenderli di sorpresa. Ricciuto! Occhi aperti! Qualcosa non va qui! Era proprio lì! Forza, troviamolo! Affermativo! Fam, grazie per avermi salvato. Sì, sì! Sì, è arrivato per gli altri. Devi andare al salto per gli altri. Fai, ti devo un problema. Prendi qua, insiste. Fai, ti devo andare al salto del diavolo. Per favore, che tutto tu possa immaginare. In video rap. Hanno due White Tail alla galleria. Se mi lasci qui... Sono morto e vero ucciso. Grazie. Hanno altri dei nostri. Li hanno portati al salto del diavolo. Cazzo! Hanno portato due dei nostri al salto del diavolo. Jacob è sul sentiero di guerra e sta cercando la tana dei lupi. Se la setta ci trova, siamo spacciati. E se i nostri non gli rivelano la posizione, li butteranno giù dal burrone. Fai in fretta. Il salto del diavolo è più a sud. Mi sposto! Mi sposto! Il salto del diavolo è dentro la galleria. Occhio! C'è un posto di blocco. Faccio un giro! Copritemi! C'è un posto di blocco. Nessuna pietà! Nessuna pietà! C'è denisi! Stai attento. Gli edeniti sono da... Quelli della setta! Addio! Cercino! Qualcuno ha grillato facile! Guarda che mossa! Nuovi! Qual è che ha? Cazzo, pensavo di finire giù dal diavolo. Tenetemi al sicuro! Ricarico! Tutti fanno la loro parte. È così che funziona Dryway Tail. Dandoci una mano a salvare i nostri uomini, avrai un grande impatto sul morale. Magari riusciremo anche a trovare delle nuove reclute. Lo sapevo che Temi si sbagliava su di te. Congratulazioni, ora sei uno di lui. Se hai tempo, ho altro da farti fare. Vieni a trovarmi alla Tana dei Lupi, quando sei pronto. Ma non sono guerrieri. Sono bambini. Questi famosi White Dale. Che cosa abbiamo qui? Il loro capo, il Lai, non è un eroe. È un cotardo. Non sono forti. Sono deboli. E presto saranno delle prede. Brutta posizione. Imposto. Peccatore!